Salve a tutti amici di Isola Illion, siamo qui con Marcus Sainz che è Writer, Guest of Honor del Lucca 2014 ed è qui per presentare il suo ultimo lavoro che è Cammino Oscuro, La Vendetta degli Albi. Ciao Marcus, puoi raccontare a noi del tuo ultimo lavoro, chi è davvero l'Elbis? L'intenzione era di dare gli Albi un controporto che è davvero bello, intelligente, bravo, ma più vero in mente, e questo era il plan di avere qualcosa contro gli Albi, e questo era il giorno quando il Albi, in germano dicevole Albi, quando il Albi è nato. Grazie, la prossima domanda, come può fare un film di fantasi e non si tratta di un moralismo? Mi piace raccontare la storia, e la lascio aiuti al lettore per decidere se c'è un moralismo o non. Non è stato io, ma non è stato un... Non è vero, è vero che alcuni hanno hanno fatto una propria interpretazione di un libro e di una storia, e non mi raccontare. Mi raccontare solo una storia, e gli lettori devono decidere se c'è un moralismo o non. E se c'è un moralismo o non mi raccontare, mi raccontare, non mi raccontare. E questo è il solo moralismo. Quindi non hai scelto un punto di vista, hai scelto per il lettore? Sì, ero giornalista per 10 anni, e il mio lavoro come giornalista mi raccontare cosa succede. E come storia, mi raccontare lo stesso. Ma mi piace, devo confessare, mi piace essere un po' di seducer. Perché nel caso di Albe, mi ha cambiato il punto di vista. E ora stiamo facendo la scelta, ma guardando dal loro perspettivo. E questo è molto divertente, come si tratta la scelta. E alcuni dei lettori mi raccontarono, mi raccontavano che ora comprendo il Albe. E ho detto, sì, messaggio è completato, questo è ok. È una buona cosa. Hai scelto a Dwarf per il vostro ero. Quindi questa scelta significa che tutti possono essere un ero? oppure vuoi cercare la scelta? Quando ho iniziato la prima scelta su Dwarfs, nessuno sa, né la pubblicazione, né me, se c'è qualcuno da qui, che è interessato in cosa a Dwarf ha fatto a casa, cosa ha fatto in privato. E ho deciso di mettere i Dwarfs nel medio della storia, perché mi piace i Dwarfs, sono sempre underestimati. E in il film, Lord of the Rings, il Dwarf era forzato a essere un tipo di giocatore. Tutti si tratta su Dwarfs, non si tratta, non si tratta, non si tratta, non si tratta, non si tratta. E ho pensato, è il momento di fare qualcosa per Dwarfs, per mostrarli come ero. E questo è un motivo per cui ho scelto Dwarfs. Grazie. E credo che sia possibile riconcilerci l'eterno combattimento tra Dwarfs e Dwarfs? Per quanto riguarda l'eterno combattimento o nella terra dove viviamo, si tratta di combattere l'eterno invece di loro. E vedremo se non c'è più l'eterno combattimento per combattere i Dwarfs contro le Dwarfs o si tratta di diventare amici. Non lo sappiamo. Beh, lo sappiamo, ma non lo leggeremo. Ok. Grazie mille. Da Luca è tutto. Vi ringraziamo, io ringraziamo Marcus Sainz. Do you want to say hello to our readers? I just want to say keep on reading whatever you like. Ok, grazie.